dai 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 forza bisogna esultare al 93esimo gol forza forza bisogna esultare anche se sono prestazioni di merda perché bisogna esultare se no non siete tifosi bisogna esultare godere insabbiare tutti i limiti di questo pseudo allenatore forza che questo qua fino a che non prende il gol non si fa un cazzo e poi si fa tutto per inerzia mica per organizzazione offensiva no si fa tutto per inerzia perché bisogna in qualche modo cercare l'episodio in area rigore avversaria e quindi su cross a destra sinistra e mica cambia modulo questo no va con 3 5 2 continuamente mette healing mette wea ma rimane quello il modulo a hildiz tre minuti tre fottuti minuti perché in tre minuti hildiz siccome è talmente un grande campione ragazzi hildiz allegri l'ha messo tre minuti perché ha un grande rispetto per questo giocatore qua perché lui punta tantissimo su questo giocatore qua perché solo i campioni possono risolvere le partite in tre minuti quindi significa che per allegri hildiz è un campione capite quindi ormai ragazzi perché dovete criticare sempre cazzo un pareggio un pareggio guadagnato un punto guadagnato a genova cazzo dobbiamo essere contenti come con con l'atalanta bergamo cioè dobbiamo essere festeggiare dobbiamo andare in piazza ragazzi aspettate no perché qua qua abbiamo abbiamo cos'è che abbiamo le bandiere cazzo le bandiere bandiere forza tutti in piazza tutti in piazza ragazzi a festeggiare tutti in piazza a festeggiare perché non si può non festeggiare un pareggio contro il genoa a genova quindi vedete campione d'italia vedete c'è anche dobbiamo festeggiare dobbiamo fare come facevano i napoletani festeggiare a ogni minimo punto ogni minimo ragazzi forza 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 adesso io veramente veramente non so come si faccia a criticare una partita del genere come si faccia a criticare un punto del genere allora il centrocampo regge grazie non a rabiot ma grazie a western mckennie perché mckennie fa tutto mckennie fa tutto tecnicamente non è scarso e secondo me l'ha dimostrato anche oggi e chi dice che tecnicamente è scarso significa veramente il calcio non capisce un cazzo si fa un culo così per tutti i centrocampisti per i difensori per gli attaccati si fa un culo così levando il fatto che abbiamo dei giocatori che solo noi abbiamo dei brasiliani che con i piedi non sanno fare un cazzo perché questa è verità con i piedi non sanno fare un cazzo ok levando questa cosa qui tanti errori tecnici chiesa ragazzi chiesa un giocatore che va a diagonismo ma avete visto quanta ignoranza calcistica c'è in questo giocatore qua ma l'avete vista o volete solo vedere il rigore non rigore che si è procurato piccola parentesi massa è un arbitro ragazzi a di là appunto degli arbitraggi in italia che poi ci lamentiamo se appunto in europa non fischiano un cazzo perché in italia ha fischiato massa ha fischiato tutto ha fischiato tutto per i metri giudizio all'ultimo ha fischiato non doveva fischiare doveva fischiare un fallo avrebbe dovuto fischiare un fallo a favore di danilo vicino alla rigore nostra non l'ha fischiata non ha fischiato un cazzo c'era un'espulsione grande come una casa di malinowski perché quello soprattutto col metri giudizio che ha avuto ma anche in europa quei falli li fischi quei falli li puniscono ecco lì per quei falli lì sono molto fiscali a differenza della trattenutina della spintarella del cazzo lì quello lì sarebbe stato espulso in europa espulso quello un rigore netto su un'espulsione netta scusate sul rigore per farlo di mano di bani mani nani nani non lo so non l'ho visto dovrei rivederlo non so se voi potete commentarmi sotto se c'era non c'era io non si non si conta solo l'involontarietà si conta oggi non so l'involontarietà ok si conta diciamo se appunto le braccia erano hanno fatto il movimento giusto a seconda del corpo tutte queste robe qua insomma non lo so io adesso dovravo rivederlo ma al di là di questo non ci appelliamo i rigori perché prima del gol loro dopo il gol nostro cazzo dopo il rigore segnato a noi siamo passati subito e non è che stessimo facendo chissà che calcio prima stavano giocando normalmente aspettando comunque il genoa cercando di fare ma noi abbiamo rischiato di fare gol solo ed esclusivamente su errori loro e allora quando ti capita l'episodio del cazzo a monza non puoi incazzarti con qualcuno se non esulta al 93esimo se hai fatto una partita di merda perché chi non esulta a parte che si è stufato in questo allenatore qua che siamo sotto scacco di questo qua ok ma chi non esulta è perché sa che facendo quel tipo di prestazioni là e non è solo perché i giocatori scarsi queste puttanate qua perché il napoli ha giocatori fenomenali il milan e l'inter poi non ne parliamo che nessuno è testa di serie in champions league ma va bene e il milan è uscito dalla champions ma vabbè al di là di questo è perché il signor allegri non dà nessuna organizzazione a questa stracazzo di squadra a livello offensivo solo a livello difensivo e poi abbiamo preso un gol del genere un gol del genere abbiamo preso perché poi ripeto se solleciti sempre la tua difesa prima o poi commetti l'errore prima o poi commetti l'errore tatticamente ragazzi meccanica sono scambiati secondo me loro sono stati bravi sulle fasce che non mi aspettavo che ripiegassero così ma siamo stati molto lenti anche noi attenzione perché il genua ripiega lentamente sulle fasce e se sono riusciti sempre a ripiegare bene è perché noi eravamo lenti miletti scandaloso miletti ragazzi non può giocare in serie a non può giocare alla juventus soprattutto non può giocare sotto quell'aspetto non è che si è sentita la mancanza di rabbio grazie al cazzo sei miletti grazie che senti senti la mancanza anche di 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 felipe melo sei miletti cazzo che cazzo vuol dire rabbio ovvio che è più forte di miletti ovvio miletti fagioli sti giocatori qua io non li ho mai esaltati neanche healing ho detto qualche potenzialità in più rispetto agli altri ce l'aveva soprattutto su hildiz ho detto che probabilmente questo qua dovrebbe giocare un po di più blaovic a parte l'assist che se non avesse fatto quello veramente non so imbarazzante blaovic imbarazzato stop un cazzo non fa niente non non tiene sul pallone si sbaglia i gol rallenta è evidente che sia un problema in questo momento qua per lui più psicologico che altro perché tecnicamente è scarso va bene però sicuramente in questo momento qua un blocco mentale lui un blocco mentale cosa vuoi fare probabilmente non ha questa grande personalità da grande squadra poi magari da altre parti l'acquisisce perché magari si sblocca mentalmente in un contesto dove gira tutto bene blaovic fa bene ma quello significa che in un contesto dove va tutto bene fai bene te come faceva di bala con noi quindi io sinceramente qualche cazzo sinceramente ragazzi non va bene così ma questi pareggi sono figli di quelli che hanno risultato cioè non di chi hanno no aspetta ognuno fa quello che vuole assolutamente ma di quelli che hanno risultato i gol e che hanno criticato quelli che non risultavano ai gol al 93esimo o alle vittorie della juventus singole questo è perché non sempre poi ti va bene come ti è andata a monza perché oggi sì che hai attaccato dopo che ti hanno fatto il gol ma perché per inerzia a monza invece eri sopra di un gol fino al 93esimo quindi fino al 93esimo è subito il monza e poi hanno trovato un 1 a 1 e ti sei sfogato te con tutti i giocatori e loro hanno fatto due errori e ti hanno lasciato due spazi e tu hai ritrovato il 2 a 1 tutto lì ma se noi andiamo a vedere oggi le palle gol che abbiamo avuto le mini palle gol sono state solo esclusivamente su errori loro anche il rigore nostro cazzata loro tecnica l'occasione di chiesa errore del loro portiere e loro hanno fatto su un errore nostro sicuramente di gatti credo lì però comunque 1-2 e ragazzi non vincere contro questo Genoa contro questo Genoa perché il Genoa non ha fatto un cazzo per pareggiare la partita niente 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 bisogna solo che vergognarsi non aver vinto contro questo Genoa perché sì a Genoa è sempre difficile l'ho detto pure io ma oggi io davo per scontata la vittoria sapete perché non tanto per io ho visto l'ultima partita a Spezzone l'ultima partita appunto del Genoa contro Monza oggi me la sono rivista e ragazzi il Genoa è questo e avesse avuto più freddezza più lucidità negli ultimi 20 metri 25 metri 30 metri avessi avuto soprattutto più organizzazione offensiva oggi il Genoa lo stracciavi lo stracciavi anche in casa loro lo battevi lo umiliavi invece invece è così io poi ragazzi dico tornando su massa io fossi un giocatore straniero me ne andrei dall'Italia perché non posso rimanere McKenney poi si è incazzato giustamente non posso rimanere in un campionato dove si fischia tutto e il fatto che non vengano giocatori di certo calibro secondo me è anche per una questione di metro di giudizio arbitrale ed è colpa anche degli arbitri e diciamo del metro di giudizio arbitrale se il campionato italiano se il calcio italiano fa così cagare non è solo colpa loro ma è anche colpa loro è anche colpa loro cazzo vabbè detto questo non mi appello l'arbitro noi abbiamo perso perché il pareggio è più una sconfitta che una vittoria per colpa nostra per colpa nostra per colpa di quello che abbiamo in panchina per colpa anche di giocatori che tecnicamente sbagliano tanto e quello tecnicamente che sbaglia meno è McKenney che tecnicamente non è scarso però Locatelli indecente Miretti indecente Vlaovic indecente Chiesa ha fatto due cose buone ma di intelligenza lasciamo stare in difesa Gatti ha alternato buone cose ha cazzate in mani sia con il pallone tra i piedi sia sulle letture delle azioni come il gol ad esempio Bremer diciamo che Bremer ha fatto bene in difesa Danilo siccome è non benissimo non malissimo ma neanche benissimo anche se il gol arriva dalla parte centrale e poi dare colpa anche a Bremer però Bremer ha fatto due o tre letture veramente buone che probabilmente avremmo preso col prima se non avesse fatto quelle letture là quindi Kostic Kostic ragazzi quando è arrivato Kostic e tutti è Kostic ma è stato si è stato cosa al Francoforte in Europa League ma che cazzo mi venite a dire entra UEA sbaglia più passaggi lui cioè i giocatori che entrano dovrebbero dare un qualcosa un come cazzo si dice un supruso come cazzo si dice rispetto a chi esce perché è più fresco invece cazzo UEA e Healing Union hanno sbagliato il diastro praticamente sono io che sono troppo critico per carità mica è Allegri che no ma adesso diranno eh ma sai non abbiamo la squadra per vincere il squadetto certo perché giochi una volta a settimana devi preparare solo una partita a settimana contro il Genova a Genova e là la colpa è della rosa ovviamente Cristo vabbè lasciamo stare perché vabbè ah i Genovani i Genovani ma che cazzo cantate vincete solo rubando che sapete solo rubare che dovevate essere in dieci forse c'è un rigore un altro rigore per noi ma che cazzo per un falletto non fischiato voi ma andate a cagare andate ai tifosi proprio allucinanti allucinanti buonanotte a tutti sempre comunque fino alla fine forza Juventus ma questo ripeto io non sono cioè a Genova sì perché poi Allegri è stato bravo lo ripeto insieme a Giuntoli ad amalgamare un po' il gruppo e a Genova mi aspettavo la vittoria però questo a livello generale non è che sia un risultato che mi stupisce perché poi sì in Italia vinci sempre con l'episodio perché sei comunque la seconda squadra più forte però a livello generale di prestazioni se poi non vinci queste partite qua perché poi magari loro si chiudono e non hai organizzazione offensiva e qua vedi i limiti di un allenatore non ti stupisci neanche se hai notato gli errori e questi limiti di questo allenatore qua anche quando vincevi se non li hai notati adesso cadi dalle nuvole o non li hai voluti notare ma quelli sono cazzi vostri perché io vi ho detto certe cose prima anche quando si vinceva e lì mi dicevate godite la vittoria critichi troppo non sei unitino adesso prendetelo nel culo e mi dispiace perché anche oggi come con Napoli ed ero in videochiamata privato ho veramente tifato fino all'ultimo risultato al gol e quant'altro quindi vabbè ero tornato a fare quello che facevo una volta però purtroppo non conta quello che faccio io conta quello che fare l'attore buona giornata a tutti è un'ultimo è un'ultimo